questo è un out of time che mi avete richiesto voi dove l'ho messo dove l'ho messo non si sa prendiamo l'altro prendiamo l'altro prendiamo l'altro per carità di appicciatoio dicevo che questo è un out of time un fuoritempo doveroso perché mi state chiedendo in mille mila milioni cosa c'era nel mio pacco dei prodotti delle streghe lucenti e allora mi sembra una cosa carina buona è giusta farvelo vedere lì spacchetto anch'io adesso perché oggi sono arrivata tardi ma c'è l'altro l'unico che ho spacchettato adesso prima di aprire qua è stato questo qui a parte il sacchettino che di uno strafigo pazzesco qui c'è il sapone che produce silvia è un sapone magico un sapone esoterico che mi ha mandato con tutta la spiegazione di come usarlo come non usarlo che tipo di sapone eccetera vi leggo solamente l'inizio per quanto riguarda cosa serve dato che mi chiedete in continuo almeno faccio un video unico questo sapone esoterico è stato preparato per togliere allontanare energie negative larve astrali e usato su tutto il corpo stacca le energie pesanti accumulate le invidie e i pensieri negativi ovviamente fatto a mano e ovviamente con tutti i criteri appositi esoterici ora me lo metto via e vi faccio vedere gli altri prodotti per cui oggi avevo scritto OMG che sarebbe oh my god anche se io sono atea perché quando ho visto il pacchettone oh my god è uscito da solo oh questa è la lavanda che coltiva silvia me l'ha mandata perché io ci faccio dei rituali e delle cose esoteriche anche con la lavanda secca e la sua è meravigliosa lavanda secca non ha bisogno di presentazioni poi vi faccio vedere una cosa estremamente particolare questo ora ve lo mostro è un unguento e per la precisione questo unguento questo unguento dedicato alla dea messalina celebra la bellezza la forza e la grazia femminile messalina venerata per il suo fascino e la sua potenza e invocata attraverso questa orazione per conferire le sue qualità a chi utilizza l'unguento ovviamente poi c'è tutta la sua orazione che viene inviata insieme all'unguento poi attacca mesi misastasi a questi lo sapete che io li uso a random ne uso tantissimo e anche la mia streghetta ervana lo sa che mi ha fatto i rifornimenti è arrivata la cavalleria ok allora ora questa olio di iperico olio di iperico scusate nuovo nuovo di quest'annata e per chi non lo sapesse qui riporta varie leggende sull'olio di iperico e spiega che viene usato per allontanare la depressione le malattie stagionali è un aiuto contro la tristezza e le malattie mentali un naturale antidepressivo sedativo ottimo per curare sbalzi di umore insonnia esaurimenti nervosi il suo olio rosso preparato per san giovanni è pieno di virtù medicali e combatte i nostri demoni interiori ovviamente poi le spiegazioni continuano anche sul piano psichico e via dicendo l'olio di iperico è una cosa che prende a 360 gradi moltissime cose situazioni esoteriche e anche salutari tra l'altro e poi arrivata la cavalleria di nuovo mi ha fatto la scorta nuova anche dell'altro suo olio che io utilizzo con la pala proprio e che è il mio olio di alloro mamma mia quanto mi piace l'olio di alloro guardate che colore fantastico i prodotti che fa silvia poi sono tutti perfetti e per chi non lo sapesse l'alloro è una pianta usatissima in magia e nelle guarigioni possiede numerose qualità purificazione ricchezza abbondanza protezione e rinforza anche le qualità profetiche ovviamente poi c'è tutto tutta la spiegazione tutte le nozioni importanti su quest'olio e alla fine aggiunge che questo oleolito non contiene essenze aggiunte e l'aroma è dato solo dalla lunga infusione per avere l'energia massima della pianta che è giusto sottolineare perché in moltissimi casi tanti utilizzano le essenze ci sono essenze sia naturali e sia artificiali ovviamente le artificiali serve una pipa e mezza le naturali possono andare bene ma non è il caso di silvia lei utilizza le piante direttamente poi questo è un pensiero che mi ha mandato ed è un po di pura cera d'api direttamente dall'apicoltore ripulita e filtrata da silvia stessa grazie anche perché queste sono cose rarissime da riuscire a trovare e non è neanche semplice ripulirla e filtrarla ne so qualcosa in effetti io ci rinuncio il mio poco tempo e la mia tanta pigrizia mi impongono di non riuscire a fare determinati lavori e quindi non hai idea dell'amore che ho provato per te nel vedere anche quella c'era proprio la canzoncina quanto t'amo quanto t'amo non lo sai è partita in testa poi 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 questa è un'altra cosa per la quale io amo silvia questa è la ruta e qua da me non c'è sta non si trova la ruta serve per la guarigione e la salute dei poteri mentali le foglie strizzate in acqua tiepida e poggiate sulla fronte alleviano il mal di testa portata al collo come una spilla o come un anello aiuta a recuperare dalle malattie e dai problemi di salute le foglie fresche sfregate sul pavimento un rametto spruzzato in casa allontana malocchio fatture rimanando indietro ogni incantesimo e poi ovviamente continuano le spiegazioni e la ruta è un'altra cosa come la cera d'api che per me è oro qui è proprio oro perché da me non c'è sta faccio la faccetta da tonta perché 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 io amo questi e ce ne sono tre uno per uno uno per brandon uno per me e uno per il maritozzo e sono quei bellissimi talismani di cui li avevo anche condiviso fatti a specchietto sono stupendi io ora il mio lo appendo all'interno della mia borsa perché così non rischio di perderlo al marito momentaneamente lo appendo in camera tanto più di lì non esce tanto e brandon vedrà dove appenderselo sono bellissimi e sono potentissimi lei lo sa ma io lo ripeto in continuo ma non è perché ma proprio perché è una delle poche streghe al mondo per la quale ho una stima immensa silvia per come lavora per come crea per come si affaccia al mondo dell'esoterismo e della stregoniera urbana poi voglio dire non è figo è stramegalitico considerando poi che io ho adesso ce l'ho di sotto nell'altro altare c'ho anche l'altro che avevo che aveva messo nel nel suo sito perché il suo sito di vendita è la bottega di oridice si trova sul web e sono meravigliosi per gli altari veramente fantastici c'erano due pacchettini di caramelle ma se l'è fottuto il mio figlio perché è malefico non ci incontriamo mai perché lui dorme di giorno esce di sera io invece dormo di giorno ma poi di sera sto qua al computer ci incrociamo quando capita che riusciamo a mangiare una volta assieme ho tirato fuori le caramelle è apparso a naso proprio e poi ovviamente c'era lui ma per questo farò un video a parte per due motivi uno perché ho la playlist apposita dove parlo dove tratto nel discorso libri e due perché me lo voglio leggere e rileggere con calma prima di parlarvene è l'ultimo uscito in case oridice si intitola dice oridice le canalizzazioni gli incanti e i riti e come per gli altri suoi sono piccole opere d'arte mi piace il finale perché dietro qua ha scritto anime di donne antiche che sussurrano ancora alle orecchie di chi le sa ascoltare è una prefazione meravigliosa lo leggerò tranquillamente con calma 111 paragrafi e e poi ovviamente farò la recensione come tutti i libri che leggo da quando ho aperto il canale ad oggi tutti i libri ovviamente inerenti al paranormale perché poi ne leggo anche tanti altri ma normalmente quelli che non sono inerenti al canale di norma non li cito nel canale youtube a meno che non abbiano delle connotazioni che possono riprendere certi argomenti che fanno sempre comunque parte del paranormale questo era il bottino della mia streghetta urbana preferita così vi ho tolto la curiosità e questo proprio lo carico subito perché? perché è giusto così? perché è un out of time è un fuori dal tempo quando faccio queste spiegazioni o queste piccole relazioni sui prodotti che creano le persone di cui io stima e che so che lavorano bene mi fa piacere inserirli subito e non aspettare di doverli caricare e via dicendo quindi questo era il mio paccone di oggi ciao Silvia grazie my love my urban witch love grazie a tutti